Ienitalia Ottobre vede come protagonista principale il mondo del food and beverage, al quale sono dedicate ben 18 pagine che racchiudono una ricca selezione di casi applicativi, casi di studio e di successo, focus e novità di prodotto, di aziende leader nel mercato nazionale e non. Degni di menzione sono anche uno speciale di prodotto sulla sicurezza IT e un'intervista esclusiva a Paolo Gianoglio, responsabile del progetto Industria 4.0 di ICIM sul know-how dell'ente in ambito certificazioni e iperammortamento. Se siete Energy Manager, responsabili di manutenzione o figure affini, non potete perdervi la quinta edizione di Energy Efficiency Stories, in programma il prossimo 15 novembre a Porto Marghera. Per info e iscrizioni, contattatemi all'indirizzo mail m.roberti-team-europe.com o visitate il sito www.teamglobalmedia.com Grazie e buona lettura!